Ciao ragazzi bentornati sul canale tecnologia e droni news vi anticipo subito che nel video di oggi andremo a vedere come i droni sono stati utilizzati per la lotta contro le zanzare infette da virus letali per l'uomo bene inizieremo ora con una descrizione più approfondita di questo tema vi invito però se non l'avete già fatto ad iscrivervi al canale cliccando sulla campanellina qui sotto e se non l'avete già fatto di mettermi un like a questo video iniziamo subito nel video di oggi vedremo come i droni possono tornare utili nel combattere la trasmissione di alcune malattie trasmesse attraverso il contagio delle zanzare non tutti lo sanno ma le zanzare sono ritenute responsabili di oltre 700.000 decessi l'anno e in quanto tale sono l'animale più letale nel pianeta per l'uomo capite quindi che il problema delle trasmissioni delle malattie infettive generate dalle zanzare è un problema piuttosto importante tra i virus più importanti che vengono riscontrati nel mondo e specificamente in alcune aree tra cui l'america latina abbiamo il virus della febbre gialla e il virus della dengue in passato sono già stati utilizzati i droni per combattere diciamo così la diffusione delle zanzare che potevano provocare questo tipo di virus in questo caso specifici però i droni erano stati utilizzati principalmente per spruzzare degli insetticidi nelle zone dove le zanzare lasciavano le larve cercando quindi così di non consentire la loro riproduzione al giorno d'oggi però è stato identificato un nuovo metodo per combattere la diffusione delle zanzare su cui ci ha lavorato un team internazionale di ricercatori che ha sviluppato un sistema innovativo appunto per combattere la diffusione delle malattie trasmesse tramite appunto le zanzare utilizzando i droni gli scienziati sono riusciti infatti a rilasciare in modo efficiente e preciso delle grandi quantità di zanzare infettate da un batterio letale per quest'ultime e quindi proprio cambiato il metodo rispetto al passato il metodo viene descritto nella rivista Shines Robotics e rappresenta un significativo passo avanti nella lotta contro le malattie come la dengue trasmessa proprio attraverso le zanzare fino ad oggi il rilascio diciamo così di zanzare infette avveniva manualmente e in maniera veramente poco efficace ed efficiente gli scienziati e i ricercatori sanitari hanno lavorato assieme in questo caso per trovare un nuovo modo di ridurre il numero della popolazione delle zanzare che trasmittevano questo tipo di virus uno degli approcci, quello più efficace, è stato quello di trovare dei batteri che infettano e disabilitano e uccidono i tipi di zanzare che causano questo tipo di malattie e quindi in questo modo infettare le zanzare con i batteri i ricercatori in questo caso hanno progettato un contenitore speciale leggero e compatto in grado di trasportare fino a 160.000 zanzare pensate un po' suddivise in diversi scomparti il drone poi è dotato di una case speciale è in grado di rilasciare dove l'operatore lo desidera un numero elevato di zanzare garantendo così una distribuzione uniforme nelle zone infette il contenitore inoltre è dotato anche di un sistema di controllo della temperatura e di sedazione delle zanzare i test sul campo condotti nelle Fiji hanno dimostrato l'efficacia del sistema con una distribuzione delle zanzare molto più uniforme rispetto ai metodi tradizionali manuali di cui avevamo parlato prima inoltre il rilascio tramite drone ha permesso di ridurre drasticamente la popolazione di zanzare nella zona interessata quindi direi che l'utilizzo di questa tecnologia per scopi anche scientifici è risultato molto molto interessante e quindi ha consentito anche di ridurre un problema che sta diventando o stava diventando sempre sempre più grande bene ragazzi io spero che questo video sia stato di vostro interesse se è così mi raccomando mettetemi un like ed iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video e ci vediamo al prossimo video grazie grazie